A tutti, un caro saluto da Francesco Samani, cerco di dare gli aggiornamenti degli ultimi minuti insomma, perché come sapete oggi è iniziato il concorso STEM per quanto riguarda se non erro la classe di concorso a 0,26 e cominciamo a dare alcuni punti di riferimento su come erano queste prove scritte. Sapete che insomma bene o male tutti i futuri concorsi ma anche i concorsi delle prove dei prossimi giorni probabilmente potranno essere bene o male riconducibili alla prova scritta che si è tenuta questa mattina. Come si era compreso durante la prova forniscono carta e penna per i calcoli. Sicuramente la variabile tempo gioca un ruolo fondamentale, il tempo è scarso, bisogna essere rapidi, quando si può non bisogna fare tutti i calcoli ma dalle risposte è possibile intuire quella esatta. Per quanto riguarda l'inglese, il livello anche qui sembra essere quello che era stato preannunciato, il livello B2, vi è un testo che bisogna cercare di comprendere e poi in linea di massima 5 quiz a risposta chiusa relativi al testo. Allora, relativamente a informatica sono uscite domande che dicono essere fattibili su Excel, quindi un programma del pacchetto office, su internet, http, url. La percentuale di promossi per aula, sapete che in ogni aula ci possono essere 10, 15, 20 docenti, si parla da un minimo ovviamente che va anche dal 0% quindi 0 persone promosse perché come sapete il risultato si sa subito fino ad anche in alcuni casi rari però anche il 50% dei docenti che hanno sostenuto la prova promossi. E' importante ribadire che alcune commissioni sono state impreparate, non sapevano di dover fornire carta e penna quindi all'inizio, poi le hanno date, però all'inizio della prova ricordate a tutti che dovete, devono darvi carta e penna per poter fare i calcoli per ogni quiz perché se vi serve fare i calcoli avete il pieno diritto di farli. Per quanto riguarda la 026 alcuni quiz sono stati sul calcolo combinatorio, la probabilità condizionata, numero di divisori di un numero dato. Si può desumere che la prova scritta sia difficile, non sia assolutamente una passeggiata, però qualora si è molto preparati e magari escono anche delle domande perché un minimo di fortuna c'è, comunque il concorso è fattibile. E ancora c'è chi dice che è molto difficile risolvere i quiz in soli due minuti, invece questo è un dato importante perché, lo avevo detto da circa un mese, questi nuovi concorsi sono volte da accertare le conoscenze e le competenze e quindi le 40 domande relative alla classe di concorso sono proprio specifiche, nozionistiche. Non ci sono domande di metodologie didattiche, di avvertenze generali, di quant'altro. 40 domande secche sulla classe di concorso in riferimento all'allegato A, 5 di inglese e 5 di informatica. Ovviamente ci tengo a ribadire che la calcolatrice e strumenti di calcolo non sono ammessi, quindi non portateli per evitare che la prova sia pregiudicata o lasciate perdere qualsiasi cosa che non è ammessa. Relativamente al livello di difficoltà, si può dire che le prove non sono troppo dissimili dal livello di difficoltà dei vecchi TFA, primo ciclo e secondo ciclo. Bene, con questo è tutto, se ci sono altri aggiornamenti qui sotto potete lasciarli nei commenti così da poter aiutare tutti i colleghi. Sappiamo che non siamo in competizione, non siete in competizione, l'importante è superare la prova, prendersi l'abilitazione, certamente è ancora più importante rientrare tra i posti per il ruolo. Sicuramente aver creato dei gruppi studio come quello Telegram, dove qui sotto sempre in descrizione lascerò un link, è servito, sta servendo a tanti. Non dimentichiamoci del fatto che per il concorso STEM i risultati si sanno subito, per il concorso straordinario i risultati si stanno finendo di sapere. Sono tantissime le persone che si sono esercitate anche qui con noi, che hanno passato il concorso, alcuni post li ho inseriti, alcuni commenti di persone che sono riuscite a superare lo straordinario. Quindi insomma sembrerebbe, scusate mi sono mosso, il mio tablet ha ruotato l'immagine, sembrerebbe insomma che sicuramente esercitarsi, confrontarsi e insomma credere anche in queste azioni che stiamo facendo. Anche grazie a questi video, grazie al vostro studio, grazie alla vostra insomma forza di volontà, sicuramente si sta comprendendo che tante persone fortunatamente stanno riuscendo pure a raggiungere ottimi risultati. Bene, io auguro un grandissimo in bocca al lupo a tutti i colleghi che si apprestano a svolgere a breve il concorso, auguro veramente il meglio in termini anche psicologici, in termini di serenità, in termini di possibilità di prepararsi insomma senza vivere questa situazione come un incubo, è una opportunità, nessuno farà brutte figure, avrete la possibilità di confrontarvi insomma con la realtà del concorso, sapete che ne avrete a breve un'altra di possibilità, si vocifera già novembre-dicembre relativamente alle date del concorso ordinario, io comunque cercherò gli aggiornati, sicuramente queste informazioni sono utili per tutte le lasti di concorso, diciamo che i colleghi che stanno svolgendo il concorso a 026 sono stati i primi e sono stati i primi insomma che hanno affrontato questi nuovi concorsi secondo il decreto sostenibile, quindi secondo queste tra virgolette semplificazioni, ma io per semplificazioni chiamerei modifiche importanti al concorso, rispetto a come era stato descritto nel bando precedente relativamente al quanto deciso oltre un anno fa. Bene, con questo io vi auguro una buona continuazione di giornata e vi auguro un caro saluto da Francesco Famani.